È stata una giornata all'insegna della condivisione e dell'entusiasmo, quella che si è svolta sabato pomeriggio a Bibione, nel veneziano. 2.000 ai partecipanti alla prima tappa della Fisherman's Friend Strongman Run 2015, la corsa ad ostacoli, organizzata in Italia da RCS Sport. Per partecipare servono muscoli allenati, fiato e voglia di divertirsi. Unica regola presentarsi al via nel più pazzo dei modi, con volti mascherati, dipinti e travestimenti di ogni genere. Il percorso di Bibione è stato definito sprint 10,5 km composti da due giri di poco più di 5 km l'uno. Suggestivi i sette ostacoli che i runner hanno dovuto affrontare, tra gli altri piramidi di Bale di Fieno e dune di sabbia da scalare e immancabile tuffo in mare. Insieme agli Strongman Runner ha partecipato alla gara anche Vincenzo Mangiacapre, il pugile italiano che vanta un palmarès molto interessante, medaglia d'oro agli europei 2014, bronzo olimpico a Londra 2012, capitano del team Italia Thunder nelle World Series of Boxing. È stata un'esperienza veramente magnifica. I valori di questa corsa sono veramente belli perché mi sono girato e ho visto persone che aiutavano gli altri, aspettavano gli altri che erano a terra e gli aiutavano ad alzare. Veramente bello, bello, bello. Grazie.